Buongiorno a tutti, col video di oggi riprendiamo la lettura e il commento dei documenti diplomatici italiani di fine marzo 1944. Negli scorsi video abbiamo avuto modo di scandagliare, di esaminare, di ripercorrere momenti importanti delle relazioni tra il Regno d'Italia e le controparti alleate, in particolar modo tenendo in considerazione sia il riconoscimento sovietico della diplomazia italiana, sia quanto questo riconoscimento può aver condizionato le reciproche recriminazioni che possono essere appunto dal governo italiano, quello britannico e quello statunitense. Nell'ultimo video abbiamo avuto modo di leggere in particolar modo varie versioni, quella più importante, quella definitiva, in cui sostanzialmente Badoglio recrimina l'atteggiamento pregresso e promuove un atteggiamento più proattivo degli alleati degli anglo-americani, tale da poter in qualche modo favorire una partecipazione più attiva, più libera anche, delle filiere politiche, diplomatiche e militari del Regno d'Italia. Siamo arrivati al 30 marzo e in qualche modo si va un po' a definire questo percorso. Allora intanto leggiamo un telegramma del ministro a Berna italiano, magistrati, al capo del governo del ministro degli esteri Badoglio, da Berna 30 marzo. Con riferimento al suo 52, un telegramma precedente, La richiesta di vostra eccellenza che il cardinale segreto di Stato sia informato che sarà fatto ogni possibile passo per risparmiare Roma e la città del Vaticano è stata inoltrata senza indugio al reggio incaricato da affari Babuscio Rizzo. E questo è importante anche nelle relazioni come le relazioni tra Salerno e Roma passino per Berna, così anche per avere una coniezione dei tempi e dei modi di queste relazioni. Ovviamente il tema di Roma città aperta, dei bombardamenti, del cercare di favorire un minore intervento tedesco, una minore presenza media tedesca. Sappiamo che siamo sempre in quei giorni successivi all'attacco mediale a Bialasella. Quindi sono comunque dei temi che, seppur precedenti, in qualche modo condizionano le dinamiche della presenza tedesca a Roma. E quindi quanto il Vaticano sia interessato a questo, soprattutto perché parla a suocera affinché nuore intenda, nel senso che voi italiani in qualche modo cercate di rendere la cosa più interessante per gli alleati. Non bombardate Roma. Le informazioni disponibili indicano che la situazione a Roma sta peggiorando a causa del crescente numero di profughi, della mancanza di mezzi di trasporto e delle difficoltà di approvvigionamento. Si sottolinea inoltre nelle notizie disponibili che le truppe tedesche sono per lo più concentrate nella zona fra il fronte merionale e Roma, con i soldati tedeschi nell'Italia settentrionale, in Toscana e in Emilia pochi esparsi. Le strade che portano al nord di Roma sono sottoposte a bombardamenti efficaci e severi da parte delle forze aeree degli alleati e il sistema ferroviario nelle vicinanze di Roma è completamente devastato. Si può considerare che Roma è isolata dal resto del paese. E quindi in qualche modo diciamo che è uno degli obiettivi che si pongono gli alleati, nel senso che cercare in qualche modo di far defluire in autonomia i tedeschi da Roma, cercando anche di chiudere tutto quello che è il sistema di collegamento con i due fronti, quello di Hans e quello di Cassino. Passiamo al segretario generale agli esteri Prunas, sempre 30 marzo, che scrive un appunto segreto a Badoglio. Ho visto ieri a Napoli l'ambasciatore Bokolomov. L'ho informato dei passi effettuati presso unito dal generale McFarlane e dal ministro Macmillan, ovviamente in relazione agli ultimi scambi che c'erano stati per un interesse sovietico che aveva dato fastidio agli anglo-americani, sia per accertare come esattamente si fossero svolte le ripercussioni, le discussioni italo-russe per la ripresa delle relazioni dirette, sia per tentare di bloccare ogni e qualsiasi ulteriore iniziativa italiana, tanto nei particolari confronti della Russia, quanto in generale nei confronti di qualunque potenza neutra ed alleata. E qui si torna sempre al suo discorso, che ovviamente una certa intraprendenza italiana supportata dai sovietici dà molto fastidio agli alleati occidentali. Gli ho dato lettura del memorandum diretto cindata del 25 marzo dal generale Wilson in proposito. Nel frattempo, come sappiamo, anche lo stesso Badoglio aveva scritto a McFarlane, quindi diciamo che c'erano stati dei tentativi di chiarificazione molto velleitari. Ho aggiunto di essere stato informato che da parte nordamericana passi sarebbero stati fatti anche a Mosca per riportare i soviet nel quadro armistiziale e in generale per risentirli anche per quel che riguarda l'Italia e il Mediterraneo entro ai limiti di azioni concordate e preventivate e coordinate fra Mosca, Londra e Washington. Gli ho quindi descritto succintamente la riunione recente col ministro Macmillan e le ragioni per le quali si ritiene da parte nostra che il tentato blocco della politica estitaliana, compiuto dagli alleati, è pure semplice arbitrio e costituisce comunque un ulteriore aggravamento delle già durissime e gravissime condizioni di armistizio. Quindi in qualche modo si cerca di reclinare agli alleati, noi facciamo quello che possiamo e facciamo secondo noi anche qualcosa che è legittimo. L'ambasciatore Bogomoloff, dopo un generico molto platonico accenno all'opportunità che da parte nostra si procede in collaborazione con gli anglo-americani, ciò che ho immediatamente confermato essere nostro fermo proposito, ha comunque esplicitamente dichiarato che le relazioni dirette italo-russe resteranno qualunque cosa pensino e facciano gli alleati, relazioni dirette fra l'URSS e l'Italia. Noi ci sentiamo in diritto di poterle fare. Sicché la falla aperta con la recente intesa italo-russa nella collezione alleata mi par destinata a restare aperta nonostante gli esporti fatti da parte anglo-americana per tamponarla. E anzi, credo probabile che dopo la prima reazione il governo britannico si induca con l'abituale realismo e spio di compromesso a registrarla non più tentando di chiuderla ma di neutralizzarla mediante l'adozione di misure sostanzialmente parallele a quelle sovietiche, quantunque formalmente e apparentemente molto più ortodosse. Diciamo che potrebbe essere un vantaggio per l'Italia. L'America in questo caso seguirebbe come sempre a rimorchio. Ho chiesto all'ambasciatore Bogomoloff se e quando ritenesse opportuno la pubblicazione di un comunicato in cui si dia notizia della designazione dei rispettivi rappresentanti che l'opinione italiana aspetta. Mi ha pregato di attendere le istruzioni già chieste a riguardo a Mosca altrettanto per tutto quanto concerne il modo e i mezzi di comunicare con Quaroni che è tuttora completamente allo scuro di ogni cosa e per dare concreta esecuzione all'accordo e così siamo rimasti intesi. Quaroni, ricordiamo, è stato designato alle funzioni di ambasciatore a Mosca anche se in realtà non era proprio designato così, però diciamo che aveva le funzioni tale. Il 31 marzo abbiamo una lettera del segretario generale degli esteri Prunas al capo della decisione politica della Commissione Alleata di Controllo, Caccia. Vediamo cosa gli scrive. Per quanto riguarda la nostra richiesta di fondi per le necessità finanziarie della nostra legazione a Kabul lei mi ha informato che il governo britannico si è detto pronto a mettere a disposizione tali fondi con l'intesa che la legazione sarebbe stata chiusa completamente. A quanto pare questo era anche il senso del suggerimento fatto da Quaroni al ministro britannico a Kabul perché Quaroni proveniva da Kabul. Scusate. Ho dato un'occhiata al fascicolo ma non ho trovato alcuna conferma che quest'ultima sia effettivamente l'opinione di Quaroni. Come si legge nel nostro memorandum del 26 dicembre di cui si allega copia è nostra intenzione di chiamare non solo il ministro e il primo segretario Anzillotti ma anche tutto il personale rimanente con la sola eccezione di Crescini, l'attuale cancelliere che rimarrebbe incaricato della legazione. Poiché sarebbe comunque necessario un custode e l'indennità del signor Crescini è molto esigua questa soluzione difficilmente rappresenterebbe un aumento delle possibilità finanziarie mentre dall'altra parte eviterebbe una chiusura formale della legazione. D'altra parte il modestissimo rango di Crescini ovviamente prende attività politica della nostra missione diplomatica a Kabul. Forse questo punto non è stato da me sufficientemente chiarito. Posso chiedere di sottoporre nuovamente la questione in questa luce al suo governo quindi si pongono delle problematiche che possono sembrare di rilievo minore ma in qualche modo hanno una sua valenza perché appunto la legazione a Kabul può avere un'importanza anche in relazione all'aspetto sovietico. Allora c'è una nota che dice La sezione politica della Commissione Alleata di Controllo risponde il 6 giugno a seguito della trasmissione del contenuto della sua lettera ai governi alleati devo informarla che il governo di sua maestà e il governo degli Stati Uniti hanno indicato di non essere stati in grado di modificare la loro precedente decisione di somministrare la legazione reale a Kabul suggerisco pertanto che vogliate richiamare il cancelliere signor Crescini e procedere al più presto alla legazione. Prunas replicò in data 23 giugno informando caccia della chiusura temporanea della legazione a Kabul e precisando D'altra parte non vogliamo interrompere le relazioni diplomatico col governo afgano che senza dubbio si risentirebbero in un passo così ingiustificato pertanto Crescini è stato incaricato di informare il governo afgano che date le attuali circostanze siamo costretti a malincuore a sospendere temporaneamente la nostra legazione a Kabul ma speriamo di riprendere in futuro normali le relazioni quanto la situazione tornerà alla normalità. Quindi è interessante di come il trasferimento di Guaroni a Mosca possa avere in qualche modo prodotto anche questo tipo di inconvenienti. E da ultimo leggiamo un prememoria segreto di Prunas al Maggiore Ricca Adesso vediamo cosa viene riferito Punto primo Quattro mesi dopo la pace attraverso le elezioni generali il popolo italiano sarà completamente libero di pronunciarsi in favore della monarchia o della repubblica Quindi diciamo che si rende fattiva questa cosa. Punto secondo A Roma o prima della presa di Roma il re si trarrà direttamente o indirettamente in disparte disegnando un locotenente nella persona del principio di Piemonte Punto terzo La locotenenza potrà consentire la formazione di un governo su larga base nazionale con la partizione dei partiti Quindi diciamo che è interessante che si prendano degli impegni concreti Punto quarto Secondo le rassicurazioni sia del presidente Roosevelt sia del primo ministro Churchill All'avvento di tale largo governo democratico risponderà da parte anglo-americana un riesame della situazione internazionale fatta all'Italia Quindi si cerca di dare una sorta di do ut des Punto quinto Tutti questi eventi futuri dovrebbero essere preventivamente predisposti e concortati Si dovrebbe soprattutto assicurare il più perfetto possibile sincronismo tra avvenimenti interni e avvenimenti esterni All'avvento del nuovo largo governo democratico dovrebbero corrispondere esattamente il passaggio dell'Italia dalla cobeligeranza all'alleanza Tale compio di preventivo accordo e di sincronizzazione dovrebbe essere svolto dal presidente Roosevelt e dagli Stati Uniti Qui si eccede un pochettino Si è troppo ottimisti Punto 6 Gli Stati Uniti assumerebbero in questo modo in Italia e nel Mediterraneo un ruolo dirigente nei confronti di tutte le altre potenze Si assicurerebbero una decisa e decisiva influenza sull'Italia e sulle cose italiane Neutralizzerebbero una qualunque azione di influenza sovietica Galvanizzerebbero la rigida e intransigente politica britannica Trascinandola verso mete più costruttive ostacolerebbero mediante la preventiva intesa a quei partiti quei tentativi insurrezionali e quei movimenti di guerra civile che sarebbero senza quella preventiva intesa altrimenti inevitabili Punto 7 Gli accordi da assumersi in via preventiva dovrebbero riguardare il passaggio dalla cobeligeranza all'alleanza con tutte le conseguenze connesse il potenziamento della partecipazione militare italiana la ricostruzione economica del paese e l'avvento di un governo italiano su effettive e larghe basi democratiche e di partiti Quindi mi sembra un avvio interessante Poi sappiamo che ovviamente un tanto la strada verso Roma è ancora lunga ci vogliono ancora due mesi abbondanti due mesi e qualche giorno oltre al fatto che ovviamente la disponibilità condizionata italiana nell'essere, allargare la base rappresentativa del governo dare un segno chiaro di discontinuità perché l'abdicazione di Vittorio Amore III e la logotenenza o almeno l'abdicazione piena l'abdicazione di funzioni di Vittorio Amore III e una logotenenza di Umberto II possono in qualche modo dare una maggiore credibilità un maggiore senso di anche superamento di tante ostruzioni sappiamo come leggendo il diario di Bonomi di quegli stessi giorni sappiamo benissimo come la pregiudiziale monarchica è un elemento base del CLN dei partiti antifascisti quindi in clandestinità quindi ovviamente è un tema o sono temi molto molto seri molto molto attuali nella dinamica del futuro politico dell'Italia nonostante ciò, nonostante ciò, ripeto se tutte queste garanzie, tutte queste promesse possano essere la controparte per un accoglimento di una maggiore clemenza anglo-americana soprattutto anglo-americana, sì nella attenuazione delle clausole armistiziali di una maggiore partecipazione una maggiore considerazione dell'Italia da cobeligerante ad alleata diciamo che questo ovviamente è una cosa che non accadrà mai in questione del poi sappiamo che sono delle parole un po' al vento e quindi in qualche modo la credibilità, l'autonomia la indipendenza politica, militare dell'Italia saranno ancora molto molto lontane e questo ovviamente dipende anche dallo scenario e dai modi del conflitto sappiamo come il fronte italiano è sempre più marginale lo sarà sempre di più ovviamente visto che il giorno dopo dell'ingresso di Clark a Roma c'è lo sbarco in Normandia giusto per gradire giusto per collocare anche i fronti e le posizioni militari, operative, strategiche delle sinergie alleate questo ovviamente ha il suo peso è ovviamente un peso che è a carico è a detrimento dell'importanza dell'Italia all'interno ovviamente dell'economia della guerra detto questo, come al solito io vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao